Bentornati sul nostro canale. Quest'oggi guarderemo una ricetta per chi ha veramente poco tempo da dedicare ai fornelli ma comunque non vuole rinunciare a un piatto importante ricco di gusto. Quest'oggi guarderemo i tortellini, panna e prosciutto. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 grammi di tortellini, 200 grammi di prosciutto cotto, 250 ml di panna da cucina, 40 grammi di burro, sale e pepe, parmigiano reggiano da spolverare a fine cottura sul piatto quando avremo impiattato. Ma partiamo subito a vedere la preparazione. Prendiamo una padella diametro 28, quella profonda, per far poi saltare bene i nostri tortellini. Mettiamo su un fuoco medio-grande, alla fiamma minima e mettiamo il nostro burro a sciogliere. Contestualmente abbiamo già messo l'acqua per la pasta che saleremo in anticipo e la metteremo a una fiamma moderata. Una volta che il burro si sarà sciolto andremo a mettere il nostro prosciutto cotto tagliato a dadini. Possiamo ottare sia per un prosciutto cotto tagliato a dadini che uno a fetto, ci facciamo tagliare una fetta direttamente dal nostro macellaio, al banco o a gastronomia di qualsiasi supermercato. L'importante è che poi lo andremo a tagliare. Noi abbiamo ottato per un prosciutto a quadrotti, un prosciuttino intero, che poi abbiamo tagliato la parte che ci interessava, ovvero 200 grammi, abbiamo ottato sempre per un prosciutto alta qualità, però in questo caso questa tipologia di prosciutto costa meno rispetto a farsene tagliare una fetta. E quindi siamo andati a risparmiare non sulla qualità del prosciutto, ma sul fatto di comprare un prosciutto a quadrotto. Facciamo rosolare a fiamma lenta il nostro prosciutto cotto a cubettini e mano a mano lo schiacciamo con il nostro mestolo di legno. Quando riusciremo a schiacciarlo ben bene, vuol dire che riusciremo a entrare bene nel quadratino e a schiacciarlo bene, vuol dire che il nostro prosciutto è cotto. Quindi continuiamo a mescolare, continuiamo a schiacciarlo in maniera tale che il prosciutto rilasci più acqua del prosciutto e più gusto possibile in padella. Quindi ne schiacciamo un po' nei nostri quadratini e dadini di prosciutto. Ora non ci resta altro che mettere la panna e pepare. Quando la panna inizierà a bollire, è ora di mettere i nostri tortellini. Tortellini che nella fattispecie, i miei tortellini hanno due minuti di cottura, quindi hanno veramente pochissima cottura. Quindi li faccio fare veramente, toccate fuga nell'acqua bollente, un minuto, un minuto e venti, perché poi termino la cottura in padella. Quindi col mestolo forato li vado a togliere dall'acqua e a metterli nella padella. E li faccio saltare fino alla cottura perfetta nella mia panna. Quindi cosa succede? Il tortellino continua ad assorbire la panna e rilasciare l'amido e quindi il tortellino si insaroppolisce. Rilasciando l'amido mi crea una bella cremina per il mio piatto. A cottura ultimata, consiglio sempre per la cottura ultimata di assaggiare il tortellino, perché bisogna assaggiare la preparazione. Come in precedenza, anche se non ve l'ho detto nel video, vi consiglio di assaggiare la panna anche per capire se l'avete regolata giusta di sale. In questo caso assaggiate anche il tortellino per capire se la cottura è perfetta. Quindi, a cottura ultimata e a cremosità ottenuta quella desiderata, non ci resta che impiattare. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, cliccate su mi piace, iscrivetevi al canale per vedere tante altre sfiziose ricette. Non ci resta che augurarvi buon appetito e un saluto da Max e Cocco. Grazie. 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 Grazie.